In questo Super Gem Fighter Mini Mix di Capcom Fighting Collection ho deciso di farvi vedere l'introduzione di Chun-Li. Guardatela tutti insieme. Vediamo cosa farà Chun-Li in questa missione. Dovrà fare tutto da sola. Ricordatevi che Chun-Li era apparsa in Street Fighter 2. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci a tutti. Ciao!